sinceramente diciamo io amo sempre andare in posti non di massa infatti casualmente il ristorante che ti sto portando ora non è proprio nel centro della movita di Monticciolaghi però è un po' più esternamente però diciamo la fortuna per chi ci va che si mangia molto bene perché la signora diciamo fa la cucina tipica bucana e utilizza un prodotto di ottima qualità questa qua è solo farina e acqua hanno gustato dei piatti semplici che io avevo preparato per noi e quando l'hanno mangiati si è illuminato il viso perché si sono ricordati dei piatti che preparavano le nonne ciao 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 ciao